Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 per lavori in direzione Bologna, corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici, possibili disagi per la viabilità. In A1 per lavori fino alle 18 di oggi sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino in entrambe le direzioni. In A1 tra Calenzano e Roncobilaccio in direzione Bologna, personale su strada per lavori. Sul raccordo siena Firenze per interventi di potatura delle alberature, scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa Sud, fino al 7 di novembre. Allo Stadio Franchi di Firenze oggi alle 15 in programma Fiorentina Cagliari, scatteranno quindi provvedimenti di circolazione nella zona di Campo di Marte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!